Il Piemonte sta per partire con una sperimentazione sui test salivari per la ricerca del covid. Intanto l'avvio della campagna vaccinale per gli over 80 slitta di una settimana. Il 2020 anno nefasto per voli e turismo ora si punta alla ripresa con la stagione estiva a partire da aprile. Il punto con il direttore dell'aeroporto di Cuneo Anna Milanese. Il mondo del giornalismo cuneese in lutto ci ha lasciati Piero Carosso, ha raccontato con passione per tanti anni lo sport della Granda. Pallavolo maschile Mondovida applausi travolge Taranto mentre Cuneo incassa un altro K.O. In campo femminile l'LPM vince ancora. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda ad un nuovo appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Apriamo quest'edizione del telegiornale parlando di vaccini anti-covid e in particolare facendo il punto sui ritardi nella campagna vaccinale. Il simbolico Vaccine Day che era previsto in Piemonte per il 30 gennaio per dare l'avvio alla campagna vaccinale degli over 80 sarà con ogni probabilità riprogrammato per la settimana successiva, sabato 6 febbraio. Intanto la nostra regione sta per partire con una sperimentazione sui test salivari per la ricerca del covid. Vediamo. Il via libera è stato dato dal comitato etico interaziendale. Il Piemonte partirà con una sperimentazione sui test salivari per la ricerca del covid. Si tratta di test autoprodotti interamente made in Piemonte e sviluppati dall'Università di Torino. I test salivari sono molto meno invasivi rispetto al tampone nasofaringeo e potrebbero essere utilizzati in particolare per i bambini e le persone che hanno problemi a sottoporsi al tampone tradizionale. La sperimentazione partirà allo spot dell'Allian Stadium di Torino. Una fase sperimentale come sottolinea il governatore della regione Ecirio che ci auguriamo dia un buon risultato per poterla estendere al più presto a tutto il nostro territorio. Intanto dall'unità di crisi della regione Piemonte arriva un aggiornamento sulla campagna vaccinale dopo una riunione con il governo nelle scorse ore. Dal momento che il commissario Arcuri ha comunicato che la consegna dei vaccini Moderna, 4.800 dosi per il Piemonte, è stata posticipata al 31 gennaio, il Vaccine Day simbolico previsto nella nostra regione il 30 gennaio per dare inizio alla campagna vaccinale degli over 80 sarà probabilmente riprogrammato il weekend successivo, ovvero sabato 6 febbraio. Per quanto riguarda Pfizer, a partire dal 3 febbraio l'azienda ha comunicato che dovrebbe tornare a ripristinare le forniture previste con regolarità, mentre resta confermata la riduzione di dosi per i prossimi giorni, che non avrà comunque impatti sul proseguimento della campagna vaccinale. Questo grazie a un meccanismo di ridistribuzione delle dosi disponibili tra le aziende sanitarie del nostro territorio. Infine, per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, è stato comunicato che la prima consegna dovrebbe essere in programma il 15 febbraio e le due successive il 28 febbraio e il 15 di marzo. Quando arriverà quest'ultimo vaccino, come già annunciato, partiranno anche le vaccinazioni presso i medici di base e le farmacie. Abbiamo parlato del vaccino contro il coronavirus, allora vediamo qual è la situazione coronavirus sul territorio regionale e provinciale grazie ai dati che come sempre ci arrivano dalla regione Piemonte. A partire come sempre dai decessi, se ne registrano 21 di nuovi in Piemonte, di cui uno nuovo in provincia di Cuneo. Per quanto riguarda i contagi, sono 600 quelli nuovi a livello regionale, 24 invece quelli nuovi nella nostra provincia. In terapia intensiva si registrano 7 nuovi piemontesi, 19 piemontesi invece in più in terapia non intensiva. Calano invece i dati di coloro che sono in isolamento domiciliare, sono 154 in meno, tutto questo a fronte di 10.313 tamponi effettuati. Per quanto riguarda i guariti, sono 707 quelli nuovi in Piemonte, 105 invece quelli nuovi in provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo, allora andiamo a vedere la situazione coronavirus nelle sette principali città della Granda. Cuneo conta 170 contagi, Alba 111, Bra 127, si registrano poi 92 positivi a Fossano, 83 a Mondovì, 23 a Saluzzo e 43 invece nella città di Savigliano. Abbiamo parlato di coronavirus, vediamo adesso le conseguenze del coronavirus andando alle Valdigi perché lo saprete a causa del Covid il 2020 è stato un anno nefasto per tanti settori, ovviamente quello dei trasporti, dei viaggi e dei voli non è chiaramente stato risparmiato. Noi abbiamo fatto il punto proprio su questo argomento con il direttore dell'aeroporto di Cuneo, Anna Milanese, che ai nostri microfoni dice ad essere ottimisti cominciamo a vedere una piccola luce in fondo al tunnel. Anna Milanese, questo è un periodo ovviamente difficile per i trasporti, per il turismo in generale, le ricadute sul vostro aeroporto in generale e sul mondo dei voli? Sì, chiaramente il 2020 è stato come per tantissimi ambiti molto nefasto anche per il trasporto aereo, oggi a voler essere positivi cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel e abbiamo come obiettivo dell'inizio della ripresa la summer season che partirà da aprile. timidamente, chiaramente perché in attesa, prima dobbiamo sperare che vengano rimosse tutte le restrizioni al potersi muovere. Per quanto ci riguarda, soprattutto a livello domenico italiano, nelle rotte italiane, non appena si potrà spostarsi tra una ragione all'altra avremo sicuramente la ripresa delle rotte che già avevamo schedulate, programmate. Per cui sì, è stato un periodo durissimo, ci ha insegnato tantissimo, prendiamo il buono e proviamo a utilizzarlo per il futuro. Per fare il punto, quali rotte nei prossimi mesi partiranno dalle Valdigi? Continueremo ad avere le rotte italiane su Cagliari, Bari, Comiso e Trapani, sulle rotte internazionali il Casablanca che tuttora sta operando e poi la grande novità del Monaco di Baviera che doveva partire a novembre ma per le ragioni di cui sopra abbiamo posticipato al 29 di marzo, primo volo. Per cui ci aspettiamo molto da questo progetto e speriamo in bene. Nella giornata di ieri i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti nel comune di Chiusapesio a valle del Pian delle Gorre dove uno sci alpinista si è procurato una sospetta frattura a un arto inferiore. Sul posto è stata inviata l'eleambulanza del 118 ma è stata allertata nel frattempo una squadra di tecnici a terra con il supporto dei guardi a parco delle aree protette delle Alpi Marittime. State vedendo in questo momento anche delle immagini. Non era stato possibile localizzare con precisione l'infortunato e avrebbe potuto essere utile l'apporto proprio delle squadre per una ricerca in quelle zone di Boscaglia Fitta. L'eleambulanza ha però individuato l'uomo in autonomia, l'equip a bordo lo ha stabilizzato e recuperato per l'ospedalizzazione. Nel pomeriggio di sabato continuiamo a parlare sempre del soccorso alpino. Sempre i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti per una valanga che ha coinvolto due sci alpinisti in discesa dal versante settentrionale della Bisalta. In questo caso eravamo nel comune di Peveragno. Cambiamo argomento perché il mondo del giornalismo cuneese è in lutto. C'è infatti lasciati venerdì all'età di 74 anni Piero Carosso, decano dei giornalisti sportivi della nostra provincia. Per anni ha seguito con grande passione soprattutto il calcio e il rally, ma anche la pallavolo facendosi benvolere da tutti. Se n'è andato stroncato da una malattia contro la quale lottava da alcuni anni. Vediamo. I primi amori sono stati il calcio e i motori, poi è arrivata la pallavolo. Raccontava lo sport in maniera inconfondibile con una passione travolgente ed un attaccamento ai colori cunesi unico. Piero Carosso si è spento venerdì, aveva 74 anni e da un po' di tempo lottava contro una brutta malattia che l'altro giorno se l'è portato via. Era talmente innamorato dello sport da trasformare quella che era una grande passione in un secondo lavoro. Così, lui che per una vita ha lavorato all'Amiroglio, ricoprendo diversi ruoli, si è trovato a raccontare lo sport cunese da cronista per tanti anni. Ha cominciato con la radio, Radio Stereo 5 e Radio Piemonte Sound, un amore che non ha mai abbandonato, diventando una voce storica e immancabile che in tante domeniche ha tenuto compagnia agli appassionati di calcio con le sue radiocronache. Poi la televisione a Telegranda e GRP alla conduzione di trasmissioni seguite e apprezzate. Presenza fissa allo stadio, ma anche nelle trasferte calcistiche del suo cuneo e dal palazzetto per raccontare il volley, sia maschile che femminile. Si metteva in gioco continuamente, senza paura, sempre in prima linea quando c'era da fare domande, anche scomode, non si tirava mai indietro, non risparmiava critiche a nessuno, ma restava un grande tifoso di tutto quello che fosse cuneo. Era, soprattutto, una persona buona, sempre pronta alla battuta, trovava il modo di farsi voler bene da tutti. Possedeva una capacità innata di mettere a proprio agio le persone in pochissimo tempo. Era facile entrare in sintonia con lui. Una brava persona, un uomo di cui sentiremo la mancanza. Ed ora una notizia di carattere regionale, perché in prossimità del giorno della memoria, che come saprete ricorre il 27 di gennaio, la giunta regionale del Piemonte promuove il progetto Ogni giorno è il giorno della memoria, per combattere l'antisemitismo parlando direttamente ai giovani nelle scuole del territorio. In particolare verranno promosse delle azioni specifiche, proprio per contrastare l'antisemitismo, anche attraverso strumenti innovativi come campagne web e social e progetti multimediali. A questo scopo la giunta regionale ha stanziato risorse per un totale di 120.000 euro, con un contributo massimo assegnabile a ciascun progetto di 10.000 euro. E cambiamo argomento, andiamo a Cuneo perché Confartigianato Imprese Cuneo ha inaugurato il suo anno tematico Passeggiate Gourmet. Si tratta di itinerari gustosi tra artigianalità, cultura e ambiente all'insegna del turismo di prossimità insieme al portale Cuneo Trekking. La presentazione è avvenuta sabato pomeriggio presso l'Open Baladen, proprio del capoluogo della Granda. Noi ci eravamo. È stato inaugurato poco fa l'anno tematico Passeggiate Gourmet, un modo per mettere insieme il valore artigiano del settore ristorazione, cibo e le bellezze naturalistiche del nostro territorio. Sì, anche quest'anno non volevamo mancare l'appuntamento con creatori di eccellenza. Un creatore di eccellenza coevede una svolta green di Confartigianato, un modo attraverso le Passeggiate Gourmet di raccontare questo nostro fantastico territorio della provincia di Cuneo insieme a tante nostre aziende che hanno creduto in questo progetto e credono in questo progetto di Confartigianato. Quindi dal mondo dei panificatori a tutti coloro che producono salumi e formaggi fino ai prodotti sotto vetro e poi ai nostri tanti mastri birrai che insieme con noi continuano a credere nel prodotto creatori di eccellenza in un modo per raccontare la qualità, l'attaccamento al territorio di tante nostre imprese e di Confartigianato che vuole continuare a riservare loro grande considerazione, a difenderle e soprattutto a raccontare quel made in granda che tutti ci invidiano. Siamo partiti oggi con il lancio proprio dell'anno tematico 2021, Passeggiate Gourmet, la prima, la passeggiata delle cappelle di Ciglie. Oggi abbiamo voluto fare il battesimo di questo evento, non si poteva purtroppo farlo in presenza, come avremmo voluto sul territorio, raccontando il territorio, l'abbiamo fatto in maniera virtuale con questo evento insieme ai grandi attori, ai grandi protagonisti, quindi alle birre, ai panini, ai cuochi artigiani, ai formaggi, ai salumi. È partito questo viaggio, è partito insieme all'azienda per scoprire la nostra provincia, scoprire il nostro territorio. 12 appuntamenti, 12 passeggiate, tante aziende che saranno poi tutte raccolte all'interno di un volume, il volume dei creatori di eccellenza per la sua terza edizione. Quindi vi aspettiamo con queste passeggiate che saranno poi la quarta domenica del mese. A tutti i partecipanti regaleremo uno zainetto all'interno del quale ci saranno proprio i colori, i sapori, i profumi della nostra provincia. Restiamo a Cuneo, mercoledì 2 febbraio ricorre il 76esimo anniversario dell'Eccidio di San Benigno, nel corso del quale 13 giovani caddero vittime della violenza nazifascista. A seguito ovviamente delle restrizioni di questo periodo, la cerimonia di deposizione di fiori e di corone presso la lapide che ricorda l'Eccidio e anche presso il monumento dei caduti di San Benigno si terrà in forma strettamente privata. Il programma della commemorazione, come fanno sapere dal comune di Cuneo, prevede martedì 2 febbraio la celebrazione alle 10.30 della messa in suffragio presso ovviamente la parrocchia di San Benigno e l'accesso alla chiesa chiaramente sarà contingentato. Andiamo a Saluzzo perché in questo periodo di pandemia ovviamente tanti sono gli eventi, gli appuntamenti che hanno dovuto cambiare pelle, ovviamente anche il carnevale. Nella città del Marchesato la 93esima edizione del carnevale organizzato dalla fondazione Amleto Bertoni si reinventa online. Vediamo in che modo. In tempo di pandemia anche il carnevale deve cambiare pelle e reinventarsi sulla rete. E a Saluzzo, città che da sempre si distingue in granda per i festeggiamenti che precedono la quaresima, sale l'attesa in vista del 93esimo carnevale organizzato dalla fondazione Amleto Bertoni. All'insegna del motto Fantasia al Potere si lavora per offrire uno spettacolo degno di quello che sulla rete è già stato ribattezzato come il carnevale indoor più grande del mondo. L'idea degli organizzatori è di portare la festa in una stanza delle case dei saluzzesi, di fare una scenografia, di vestirsi, divertirsi e scattare una foto usando lo più possibile materiali di recupero, fantasia e di gioia. Per prendere parte all'evento occorre inviare entro e non oltre venerdì 12 febbraio almeno una foto che illustri come sono stati trasformati gli ambienti di casa propria in un carro allegorico. Il materiale sarà poi pubblicato online e tutti i partecipanti concorreranno all'assegnazione di premi, consistenti in pacchi con prodotti del territorio divisi a seconda delle categorie. I dettagli sono sul sito www.carnevaleindoor.it. Intanto i carristi sono all'opera per realizzare il carro più bello, al quale sarà assegnato come della tradizione il trofeo del Carnevale delle due province, ovvero la Coppa del Carnevale. Gli oratori invece si stanno cimentando nella realizzazione di un carro sul tema il territorio con i propri frutti. L'ultimo bagno di folla che la città di Saluzzo ha vissuto nel 2020 è stata proprio la sfilata dei carri di Carnevale, commenta il sindaco della città del Marchesato Mauro Calderoni. A un anno di distanza questa festa ritorna declinata in una formula nuova. Non rinunciamo a stare insieme nonostante la distanza. Ed ora la nostra pagina sportiva ricca come ogni lunedì. Nel weekend è arrivato un altro buon risultato della sciatrice borgarina Marta Bassino che a Kranz Montana in Svizzera ha conquistato il settimo posto in Super G. Considerando che si è gareggiato su una neve che Marta non ama e che il Super G non è la sua migliore specialità si può parlare comunque di un buon piazzamento per la 24enne. 24enne che è già pronta per la gara di gigante di domani martedì 26 gennaio a Kronplatz dove potrà ancora dire la sua e ovviamente lottare per le prime posizioni. La prima manche è in programma alle 10.30 mentre la seconda è invece prevista per le 13.30. Continuiamo con lo sport ma parliamo di pallavolo. Pallavolo maschile in particolare perché è stata una giornata in chiaroscuro per le formazioni della grande impegnate nel campionato di A2. Mondovì ha realizzato un'impresa battendo nettamente Taranto seconda in classifica mentre invece prosegue il periodo difficile di Cuneo. Cuneo che è stata sconfitta ancora questa volta a Reggio Emilia. Vediamo. Partita perfetta e seconda della classe spazzata via in un'ora e un quarto da un VBC Synergy Mondovì da applausi. La Prisma Taranto si è arresa alla squadra monregalese che al pala a maniera si è imposta con un perentorio 3-0 netto anche nei punteggi dei singoli set 25-19, 25-21 e 25-22. Una grande prova da parte della squadra di Barbiero che conferma il buon periodo di forma dei monregalesi. Ci si attendeva che i pugliesi, una delle corazzate del campionato, venissero a fare la voce grossa a Mondovì ed invece sono stati i padroni di casa a dominare fin dalle prime battute e senza essere mai davvero messi in difficoltà dagli avversari, privi, è vero, di due pedine importanti. Ma anche il VBC ha dovuto rinunciare ad un giocatore fondamentale come il palleggiatore Putini ai box per un infortunio muscolare. Grazie a questi tre punti i monregalesi fanno un ulteriore balzo in classifica scavalcando Santa Croce e allontanandosi ancora dalle zone pericolose. Se Mondovì vive un ottimo momento di forma non si può dire lo stesso della BAM Acqua San Bernardo Cuneo che conferma il periodo di appannamento soprattutto lontano da casa dove non riesce più a raccogliere vittorie. Dopo il pesante KO sul campo di Castellana Grotte di mercoledì la squadra di Serniotti ha incassato un'altra sconfitta esterna a Reggio Emilia mettendo a nudo, oltre che alcune difficoltà tecniche, una tenuta mentale che in questo momento non è certo quella di qualche settimana fa. Pistolesi e compagni non sono mai riusciti a cambiare marcia quando era il momento di giocarsi i punti decisivi che sono andati sempre agli avversari. Troppo fallosi, specialmente al servizio, i cunesi hanno rimediato al primo set perso di misura strappando il secondo ai vantaggi ma nel terzo e nel quarto parziale Reggio Emilia si è dimostrata superiore prendendosi meritatamente i tre punti e condannando Cuneo al quarto KO nelle ultime cinque partite. In classifica i bianco-blu restano al terzo posto ma dietro vedono sopraggiungere minacciosamente Siena e la stessa Reggio Emilia. Urge una veloce inversione di marcia. A proposito vi segnaliamo che domani sera nell'ambito della consueta serata pallavolo Telegranda trasmetterà un'ampia sintesi della partita tra VBC e Taranto. Continuiamo a parlare di pallavolo ma ci spostiamo però in ambito femminile. Se in A1 la Bosca San Bernardo Cuneo ha osservato il turno di riposo in A2 ha invece giocato regolarmente la LPM BAM Mondovì. LPM BAM Mondovì che ha ottenuto l'ennesima vittoria battendo in casa per 3 ad 1 Montale. Nove partite disputate tra dicembre e gennaio, otto vittorie ed una sola sconfitta. Sono gli impressionanti numeri degli ultimi due mesi della LPM BAM Mondovì. Superato il Covid che ha bloccato squadra e staff per circa un mese a novembre, la formazione monregalese è ripartita con un ritmo pazzesco. L'ultimo successo è arrivato sabato contro il fanalino di Coda Montale che è stata però l'unica squadra a riuscire a battere le pumine in questi due mesi nell'ultima partita del 2020, il 30 dicembre. Questa volta le ragazze allenate da Delmati si sono prese una rivincita nei confronti delle Emiliane battute per 3 a 1 al termine di un incontro rimasto in equilibrio solo per i primi due set. Nel primo le monregalese si sono ritrovate ad inseguire ma sono state brave a rimontare e a conquistare di misura il primo parziale. Andamento simile nel secondo set ma questa volta la rimonta delle padrone di casa non si è completata e Montale ha potuto pareggiare i conti. Di qui in avanti però non c'è stata più partita la LPM ha dominato i successivi due set vinti nettamente grazie ad un'ottima Hardeman che ha chiuso come top scorer dell'incontro con 20 punti alla solita tanase a Taborelli e a Mazzon ma in generale è stata tutta la squadra a rispondere bene riuscendo a cambiare marcia soprattutto nelle fasi di muro e contrattacco. Le pumine hanno così potuto festeggiare ancora con i loro tifosi che non hanno mai smesso di sostenerle dall'esterno del Palamanera. Grazie a questi tre punti Mondovi chiude la fase di regular season al secondo posto ma ci sono ancora due partite da recuperare, le trasferte di Milano con il Club Italia e di Olbia utili per aumentare il bottino di punti che le monregalesi si porteranno dietro nella seconda fase quella della pool promozione. Ed ora parliamo di calcio con i risultati delle squadre della Granda impegnate nel campionato di Serie D. Per il Bra vittoria in trasferta sul campo del Chieri per 2 a 1 che permette alla formazione braidese di portarsi in solitaria in seconda posizione alle spalle del Gozzano ma con una partita in meno rispetto alla capolista. Pari esterno per 1 a 1 sul campo delle città di Varese invece per il Saluzzo che resta in 14esima posizione. È stata invece rinviata la partita tra Fossano e Sanremese. Sempre per quanto riguarda il calcio però quello femminile grande soddisfazione per la giocatrice divernante Michela Giordano difensore classe 2002 che milita nella Juventus e che ieri è esordito in Serie A con la maglia della squadra bianconera, la state vedendo in questo momento. Entrata in campo al settantesimo minuto nel match vinto dalla Juventus contro l'Ellas Verona. Michela Giordano dopo gli inizi al Val Vermenagne era poi approdato al cuneo femminile, questo ovviamente prima del passaggio alla Juventus. Dunque complimenti. Siamo in chiusura del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento per questa sera sulla nostra emittente con lunedì sport, il talk show sportivo condotto da Gabriele De Stefanis. Parleremo di pallavolo femminile, in particolare di LPM BAM Bondovì, come avete sentito fresca di vittoria contro Montale. Spazio poi nel corso della trasmissione anche ai tanti progetti e alle tante gare in programma della Cuneo Ginnastica. L'appuntamento dunque alle 21 per questa sera su Telegranda. È tutto per quanto riguarda il Telegiornale. Grazie per averci seguito e buona serata. Arrivederci.